Dalla centrale Luceverde in collaborazione con la regione Lazio e Laci, buon pomeriggio da Giovanni Pascarelli. A Roma il traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale, inevitabili pertanto i rallentamenti. Trafficato anche il raccordo lunare con code lungo la careggiata esterna tra l'uscita per la Roma fiumicino e la diramazione Roma Sud. Sulla careggiata interna rallentamenti e code tra la via Cassia, via Entana e la via Pernestina e più avanti incolonnamenti tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino via Casal del Marmo per un incidente. A Frosinone proseguono i lavori di messa in sicurezza del viadotto Biondi con conseguente divieto di transito veicolare e pedonale. In provincia di Latina è riaperta al traffico la via Puntina tra Sezze e Puntine in direzione di Terracina. Per consentire la prosecuzione dei lavori anticipiamo che domani, venerdì 13 giugno, dalle 7.30 alle 17 sulla strada regionale 148 Puntina verrà disposta la chiusura della corsia di marcia in direzione di Roma tra Puntinia e Sezze. Le deviazioni sono sulla via Migliara 45. In alternativa si può percorrere la via Appia o la via Litorania. Per quanto riguarda il trasporto pubblico informiamo che sulla linea Roma-Lido la programmazione ferroviaria ha subito delle modifiche per garantire la regolarità nelle partenze. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito regionelazio.luceverde.it. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione.